Ciao, io mi chiamo Caterina, sul sito LiveMyBeats mi chiamo Caterina11. Questo è il sito e questa volta vi voglio certificare un'altra vincita che è l'orologio Braille che erano due scelte, sfondo nero e sfondo così, io ho scelto sfondo così del valore 152 euro e me la sono aggiudicata a 67 centesimi come potete vedere. Allora, sì dove lo lascio? Ecco qua, pacchettino è arrivato, l'ho vinto lunedì e giovedì è già arrivato. Ecco, pacchetto era così, va bene, è il solito pacchetto, questa volta è con GLS, con l'ispedizione veloce. Ed ecco qua, è il pacchettino già aperto. Questo era il scontrino per garanzia, perché comunque è per l'acqua. Ecco, questa è la scatola, ed ecco qua, voilà, l'orologio. Eccolo qua. Allora, vediamo qui. Qui c'è il libretto con tanto di timbro e la data per la garanzia. e qua è il libretto con tutte le istruzioni, come funziona. Questa è 10 atmosfere, quindi potete vedere che è anche da piscina e anche diciamo nuoto nel mare. Questa è la scatola, l'orologio, zac, 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 e arrivato così, con il suo marchio. Adietro. Torniamo la plastica che già ho tolta, perché vi devo dire la verità, l'ho provato pure nell'acqua e va benissimo. Davanti tolgo di nuovo che c'è l'adesivo, rimetto via, ed ecco qua. Come potete vedere, è un orologio veramente bello. Cinturino in gomma, e se potete vedere, eccolo qua. Quindi veramente unisex, è bellissimo. Io già l'ho provato nell'acqua e funziona perfettamente. Quindi che dire, il sito è serio, tipo quasi ventesima vincita se non sbaglio, una cosa del genere. Sono arrivati tutti i prodotti, tutti originali. Sto aspettando gli altri due prodotti che devono arrivare, quindi tutto a posto. Io sono felice, saluto tutti i giocatori e ringrazio Like My Beats, e alla mia prossima vincita. Speriamo. Ciao.